Vabbè, le faccio due a scoppio si dice. Ho visto questa e non potevo... l'ho buttata quell'altra, questo è il video, sono andata a guardare quello di prima che giustamente dice che apre, ma che sta di questo? E voglio assaggiare questa, questa è la fragola, parliamo sempre di Big Bubble, Big Bubble anni 80 quindi un successo enorme e ancora, ecco ancora per male, quindi evidentemente c'è del buono. Allora per aprirla sempre l'aletta, così, e si prende le due estremità e si apre, con semplicità. Allora qui c'è scritto, si vede un liquido che esce dal cosi, quindi mi vengono in mente quelle lì che c'hanno dentro il liquido, non mi ricordo adesso il nome, comunque un po' assaggio, questo è Big Bubble. Ementos, sembra una mentos, mi dice mia moglie, sì in effetti è un po' stondata come la mentos, però dentro c'ha quel livido gel. Non lo sai se ce la faccelo vedere. Sta con voi eh, sta con voi, faccelo vedere. Dai facci vedere. C'è il gel spinner? No, c'ha ragione. Ecco già? Non lo so. C'è eccolo, lo sa, eccolo vedete come esce. Si chiamavano fresh qualcosa. Ma lo ricordo. Quelle con il liquido dentro, tipo fresh qualcosa. Tra questa cosa di ieri ha vinto questa. Ottimo. Andate a provare subito, subito al tabaccaio, subito, vicino a voi. Vi saluto. Buona.